che fa questo ma c'è un'offerta speciale che è stata facendo che è la prossima è che il responsabile è che il responsabile sta arrivando io vi assicuro che siccome il potere di unificare il dettivo se trovo degli asseveramenti per l'offerta adesso mi assumo la responsabilità lo chiudo e lo andiamo qui ok? no perché secondo me la cosa più inopportuna in un momento in cui si sta potendo la gente sanitaria è quella di affiare le missioni e di fare concentrare i determinati giorni uno può fare un sconto durante tutti i giorni e poi la mano le missioni e il stato comprende concentrare i giorni in cui si dà il buono e concentrare i giorni in cui il buono si può spendere sono contro assolutamente contro i tentativi che stiamo facendo tutti di evitare gli asseveramenti se voi pensate che non si avrebbe dovuto fare così fate così io starò personalmente a controllare grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti